Sono con il maestro Fabio Sartori con una sua opera per le scelte di Puntelli qui a Villa di Senti, in La Calcina e annuncio con lui dal 16 di novembre al 26 di gennaio la sua personale nella biblioteca toscana di San Paolo di Vesta. Stiamo parlando veramente di una bellissima sede palazzo che ci sono da dare su Piazza del Campo, ci sarà una sua personale a mia cura dove ci saranno le sue scritture, il suo regno, la sua visione d'arte che veramente ora testa l'attenzione di musei e istituzioni ma ci saranno anche delle novità. Sì assolutamente, oltre a questa mostra l'abbiamo arricchita con uno studio di disegni sulle sculture, uno studio molto molto interessante sul segno che alla fine va a sfociare sulla mia ricerca personale anche nell'ambito grafico. Quindi vi aspettiamo a Siena, Palazzo Chigi Zordadari, la personale di Fabio Sartori, fra disegni e sculture, un momento unico di arte contemporanea, una mostra nazionale.